Penultimo giorno di lavoro per l'Aquila di Modica, prima della partenza per Rimini, dove i rosso-blu si giocheranno le residue speranze per evitare play-out. Sul fronte formazione l'unica certezza è la conferma del 4-3-3. In difesa è pronto al rientro Giordano Maccarrone, che dovrebbe fare coppia con Piva. Sugli esterni, con Chirieletti fuori causa, Di Mercurio potrebbe tornare titolare, con Ligorio sul fronte Mancino. L'altro grande rientro rispetto al match di Siena è quello di Milicevic, in mezzo al campo. Le sue geometrie e la sua visione di gioco saranno un tocca sana per la manovra dell'Aquila. A caccia di una maglia sulla mediana c'è anche De Francesco, lasciato in panchina da Modica per tutti i 90 minuti contro il Siena. L'ex Lazio si giocherà il posto con uno tra Bulevardi e Manuel Mancini. In attacco, Perna è favorito su De Sousa, mentre Ceccarelli potrebbe tornare titolare dopo tantissimo tempo. Mancheranno di certo Pesoli per infortunio e Triarico per squalifica. Nel Rimini mancherà invece Nicola Mancino, appiedato per un turno dal giudice sportivo per recidività in ammunizioni. Intanto il pianeta l'Aquila può sorridere per la grande notizia arrivata ieri dalle giovanili. In particolare la formazione degli allievi nazionali guidata dal tecnico Alex Taribello si è qualificata aritmeticamente ai play-off. Ieri si è infatti disputato il recupero tra Roma e Foggia. La vittoria dei giallorossi ha qualificato la formazione aquilana, che dunque a metà maggio parteciperà alle Final Eight di categoria. Risultato storico mai raggiunto per il vivaio rosso-blu del presidente Fabrizio Rossi al suo primo anno da numero uno delle giovanili.